Fabio Berardini, dal debito fuori bilancio, dalla maggioranza che si sta un po' spaccando, non c'è più condivisione che passa da una lista ad un'altra e soprattutto la sfiducia al Presidente del Consiglio Milton Di Sabatino, qual è la vostra posizione da opposizione? Noi pensiamo che questa maggioranza sia completamente spaccata, che il Sindaco non abbia più il controllo di questa situazione e ne abbiamo avuto la riprova anche oggi, in quanto noi abbiamo presentato come opposizione una questione sospensiva perché la mozione di revoca del Presidente del Consiglio Comunale deve essere messa all'ordine del giorno del Consiglio Comunale secondo appunto il regolamento, invece questa maggioranza, questo Sindaco e questo Segretario Generale in completo sprezzo delle norme e delle regole di legge hanno pensato bene di prendere tempo e voler differire la cosa tant'è che è stata necessaria anche una riunione di maggioranza all'AMPO proprio perché il Sindaco non ha proprio il benché minimo controllo di questa maggioranza si continua ad andare avanti violando le regole, si continua ad andare avanti approvando variazioni di bilancio che comportano ulteriori aumenti di spesa un Comune dal nostro punto di vista completamente allo sbando e noi ci aspettiamo a breve che questo Presidente del Consiglio sia rimosso in quanto non rappresenta più l'imparzialità e anche oggi ha voluto dare la parola prima all'amministrazione e concedere la pausa senza dar modo all'opposizione di dire la sua questa è veramente una situazione intollerabile che denuncieremo in tutte le sedi opportune